Il profumo, ve lo posso garantire, era unico, il profumo dell'uva matura, appena raccolta e pigiata, come una volta. Ma soprattutto unica e contagiosa la gioia dei bambini della scuola elementare di Casoni di Mussolente, protagonisti di questa lezione speciale tenuta dai nonni che seguono il progetto Orto. In mattinata gli alunni della Manzoni hanno vendemmiato, raccolti, grappoli d'uva dalla vite che cresce nel giardino dell'istituto. Nel pomeriggio il divertimento vero, la pigiatura degli accini dopo essersi ben lavati i piedi, come una volta. Bello, bellissimo, la parola più usata. Ma com'è pigiare l'uva? È bello! Nella prima volta l'avevi mai fatto? Mai! L'avevi mai fatto? No! Te l'hanno raccontato i nonni, vero? Ti stai divertendo? Sì! Bello! Ma ti immaginavi una cosa così? È divertente! Bene, schiacciare l'uva, mi piace! È una cosa bella! Sì! È un'esperienza che non hanno mai avuto. Penso che sia la prima volta nelle scuole che succede questo. Com'è che vi è venuta questa idea? È un'idea che è tornare indietro nel tempo per sentire e vedere i valori di una volta. E anche le maestre hanno ceduto alla tentazione. Ha un'emozione intensa proprio, anche perché per me è la prima volta mai fatto, quindi se lo fanno i bambini lo devo fare anche io, altrimenti non posso capire cosa hanno provato i bambini in pieno. Grazie! 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 Grazie!